E' una ricorrenza strana quest'anno quella del 2 novembre. A causa dell'emergenza Covid-19 che in questi ultimi giorni sta facendo registrare numeri elevati di persone positive, l'unità di crisi regionale ha evidenziato, a discrezione dei sindaci del territorio salernitano, di adottare misure di prevenzione di contrasto al virus. Si entra in cimitero dopo aver misurato la temperatura corporea e rigorosamente con la mascherina e si tiene il più possibile il distanziamento fisico e dalle persone presenti. In molti comuni della provincia di Salerno i sindaci hanno disposto ordinanze specifiche per evitare il propagarsi del virus ed hanno preferito tenere chiusi i cancelli dei camposanti. Nella città di Agropoli il sindaco Adamo Coppola ha disposto un vademecum per le visite ai defunti. Gli ingressi del cimitero della giornata del 2 novembre, in considerazione dell'emergenza Covid-19, saranno presidiati da Protezione Civile Croce Rossa per il controllo della temperatura. È vietato l'assembramento ed è obbligatorio indossare la mascherina protettiva. L'orario di apertura del Camposanto è dalle 8 di mattina alle 17, con orario continuato. Le sante messe non si terranno come di consueto presso il cimitero, ma in chiesa. Presso la chiesa Santa Maria delle Grazie le sante messe sono state celebrate questa mattina alle ore 8 e 30 e alle ore 10, prevista anche per questa sera una messa alle ore 18. Questa mattina la società a pista di Teramo sta effettuando una sanificazione degli ambienti per assicurare la disinfezione di tutte le panche presenti e degli ambienti circostanti. La società ha voluto donare alla chiesa Santa Maria delle Grazie questo intervento importante di sanificazione, visto che questa sera alle ore 18 si terrà l'ultima messa della giornata commemorativa dei defunti fedeli. Nella frazione Moio la santa messa si è tenuta questa mattina alle ore 11, mentre nella chiesa San Francesco si terrà alle ore 17 e alla Madonna di Costantinopoli è prevista per le ore 18 e 30. Questo pomeriggio inoltre il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, insieme al parroco Don Carlo Pisani, alle ore 15 e 30 deporranno una corona di fiori presso il cimitero cittadino. La cerimonia si terrà nel rispetto delle norme anti-Covid-19.